Buonasera, mi chiamo Gianfilippo Neri, avevo visto l'inserzione su internet, ne va mai non ho trosti, non lo riesco a dire, non lo riesco a dire, mi dispiace? Pronto? Ah, fatti? Sì, sì. Eh, ma se voi ridete, io però come faccio a spiegarlo? Mi state bene? No, no, c'è questo buono, non ti preoccupare. Prendi per attuali. Sto lasciando su. Povero Gerardo. Gerardo, buonasera, benvenuto.